Ehi la ciurma, io sono la ZTS e ben ritrovati qui su Expeditions Roam. Allora, intanto ho dovuto parlare un po', comunicare su Discord, ho detto, ma che cavolo sta succedendo? Cosa devo fare? Perché con le quest siamo bloccati, perché possiamo andare a parlare solo con le tizze, ma è una quest secondaria, mentre invece qua dice, beh, conquista l'Asia minore, ma come, dove, e poi gli ho detto, ma perché Misia qua, noi abbiamo preso la regione, ma vuole comunque la nostra legione? Mi ha detto, no, devi farlo uguale. E io ho detto, ma in che senso? E io ho detto, eh sì, cioè per forza devi conquistare, ma perché non l'hai conquistato, sei stupido? E io ho detto, ma, cioè, mi sembrava che fosse chiaro da nessuna parte, neanche che puoi attraversare il mare, per cui, sono abbastanza, diciamo, deluso. Sì, diciamo proprio deluso perché non è per niente chiaro, cioè io ho detto, vabbè, risolvo le questioni, adesso sono alleato con loro, per cui perché devo andare a invaderli? E niente, mi ha detto, no, tu devi invaderli, perché questi non sono loro, ma sono gli altri, e quindi, niente. Devo dire che appunto ci sono rimasto abbastanza male, perché secondo me è una cosa di gameplay che non è ben fatta. Speriamo che il discorso della legione sia fatto un po' meglio, perché secondo me è proprio un po' un'accavolata. Vediamo un po' adesso come si evolve la situazione, spero di essere un po', ecco, risollevato, perché ultimamente gli ultimi episodi sono davvero abbastanza deluso da questo gioco che molto aspettavo e da cui mi aspettavo abbastanza, mi aspettavo abbastanza. Spero la camera un pochettino, cioè la telecamera un pochettino sbappata, ho dovuto usarla per altre robe e adesso è un po' tutta in posizione sbagliata, ma tanto così, è tutta fuori asse, forse dovrei metterla più così, forse, è un po' più così, forse, sì, dai. Allora così, allora dobbiamo andare a parlare con Cassius. Tartarus, grazie, ti hai ruincato tutto. Eh, infatti, io sono interessato, ti taglierò tutti gli arti. non ci stai a invited. Che hai fatto? Mi bebbero espevito, mi nace in una cucina. Credo che il destra. Ecco, mi vede ti solo... Ah, per favore, fermi, ti chiedo nulla. Il senatore Uitellius Skaewola, il tuo fratello-in-law. Il Skaewola è lavorando con i pirati, servendo loro con protezione da autorità romana. In risultato, il senatore prende un corte da tutti i plunder. Ha senso. No, ha molto senso. Certo. Pagano le taxe. Tutto era bene, fino a Lucullus e Cotter iniziarono la campagna contro i pirati. Quindi Skaewola ha fatto un accordo con Mithridates. Collusione con il enemy. Cosa Mithridatese sa da? Cosa devo sapere? Dobbiamo riportare questo al Consul. Agathe, qui. Il senatore. Non è necessario più di più. Tutto è bene, ho sperato. Viola. Non c'è delle piume Viola fatte tipo a boh, il caschetto di Raffaella Carrà. Povera Raffaella. E nulla, allora andiamo a parlare con Lucullus. Tra l'altro su Discord mi hanno anche detto ma perché nessuno avrebbe mai pensato di fare la missione senza invadere tutto con le legioni? Ok. Mi sembrava cosa ben più scontata da fare. Scusa, io voglio entrare qua. Mi ci porti? Ok. Non è che è così... bello, eh? Andiamo a parlare con Lucullus. Dai. Stato bene, ho già abbastanza informazione su Skaewola perché... Mi viene proprio da chiamarlo Scevola, scusatemi, perché sono stato abituato da sempre a chiamarlo Scevola. Ehm... L'abbiamo già visto dall'accampamento di Mitridate. L'abbiamo... pizzicato adesso che voleva scarci. Ehm... Con i Pirati ed è alleato dei Pirati per cui... Mh... Abbiamo un po' di roba da dirgli. Abbiamo dei punti di skill da spendere. Va bene, lo faremo. Ehm... Con lui devo parlare. Beh, sì. Con Lucullus. Con Lucullus. Da quando lo sai? All'inizio. Stavamo lavorando con il tuo padre per esprimere l'Otelio Skaewola e il suo fratello. Alas... L'abbiamo che è morto il nostro padre. Il primo segnatore dovrebbe farlo. L'Otelio è il vino più intoxicato. Infatti è anche poesone. È stato molto tempo dopo che il Senato stava per le virtù di Roma. In un modo... Skaewola e il suo fratello sono l'esposizione della Roma moderna. Per eliminare la tua famiglia. Il tuo padre e io eravamo vicino a rinforzare questa conspirazione contro la vita di Roma. Per evitare la tua sorella dopo la morta di Marcus, ha fatto con l'Otelio Skaewola la tua famiglia famiglia. Un gioco perfetto per ottenere la tua famiglia fuori dalla foto. Devi sapere che sia l'Otelio Skaewola o il suo fratello Lorco ha mortato il tuo padre. Non c'è altra esplanazione. Siamo così vicini per ottenere la famiglia dichiarata in famiglia. Mi sembra tutto così... lineare. In loro disperazione hanno mortato il tuo padre. E' per questo la tua madre ti sentiva qui. Lei ha capito che anche tu eri in pericolo. e anche tu eri in pericolo. Ehm... Ehm... Il sangue di mio padre non deve essere stato versato in vano. Devo salvare la mia famiglia. Riprendemeli da scevola. Cosa... Skaewola scusate. Ehm... Cosa pensi che ti debba fare? Non ne sei molto ottimista. Skaewola... Skaewola... Ehm... Skaewola... Skaewola... Ehm... Skaewola... Ehm... Skaewola... Ehm... Skaewola... Ehm... Skaewola... Istissimo. Skawsola... Ma cheningen Noi romani ritroviamo di pensare di fornitori noncivilizzati. Dismissare Mithridates come un altro barbariano sarebbe un'altra forma di underestimare il king di Pontus. Cotter ha pagato molto per questo errore. Inoltre, ho preso tutte le precauzioni necessarie. Lama Dantus garantirà la nostra sicurezza. Intendiamo negoziare con i nostri figli per migliorare le nostre posizioni. Perché questo siuva come un'esercizio a te? Ok. Non ti preoccuparti. Saranno capire queste cose nel tempo. Nella stessa villaggio di pesca in Troas, dove hai trovato Cassius. Lama Dantus ha deciso di mediare. Siamo incontri nella sua villa e avremo l'opportunità di provare la sua città. C'è un'esercizio. C'è un'esercizio. C'è un'esercizio non. E' Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Cosa devo fare? Guardando per notare. Probabilmente per passare. Cosa devo fare? Cosa devo fare. Ma è una grande opportunità. Non puoi muovere. va bene l'abbiamo vista la villa, probabilmente con la sola collina dove non potevamo andare non fa male una pozionecina, dobbiamo parlare con altri qua, non credo, abbiamo un'altra missione adesso quindi dice, ok aspettate un attimo che arrivo subito scusate bec, allora dobbiamo fare, cambio di ostaggi o sangue, cos'è questo? ah ok dobbiamo comprare il vino là ma costava tantissimi soldi, allora mettiamo il scambio di ostaggi, va bene è come una side quest, va bene, party management dobbiamo da mettere, ah abbiamo delimitato cos'è questa? la traitor's mail ma c'è qualcuno qui può interessare, mi sa no ah, il sagittarius può andar bene, vadi allora ottimo e... cos'è sta roba? il metto bene ci sta, cos'è che abbiamo ancora qua? del hemlock, skills, ah chi è che abbiamo di skills qua da mettere? dobbiamo andare a mettere questi tre tipelli, allora noi abbiamo fatto un po' di medico, no? o di flag bearer? no forse l'abbiamo fatto su flag bearer, inspire... ah si, era l'inspire man, se ti ragiono ti dà più morale, più danno a tutti, ci piace, dai mettiamo questo, un po' di supporto lo stiamo facendo, ma non supporto medico, supporto proprio che ci dà dell'aiuto, questo, interrupt, quickshot non è male, però lo terrei su questa strada, forse, perché Giulia su che strada l'abbiamo andata, l'abbiamo tutto mescolato a caso, continuerei però di qua, mi sa, perché qua... più accura, si, da marked, ranging shot 2, piccoli, assist... andrei qua, sul potential interrupt, forse sto sbagliando eh, come build, però vabbè, vediamo un po', questo lo stavamo facendo super mega tankoso, vero? perché lui invece era della prima, lui è della terza, stiamo facendo vanguard, eh... dai, diamo meno morale a quelli che sono intorno, e nulla, quindi dobbiamo andarcene adesso a Troas di nuovo, ah, c'è un'uscita in alto, vero? sì, usciamo dal cancello secondario... non riesco a stare nelle quadrature giuste oggi, non so perché, ho cambiato di così poco la camera e adesso tutto rotto, niente, adesso sono tutto, tipo, così, con la schiena, eh... vabbè... anche se io mi mettesse dritto, niente, dovrei alzare, ecco... proviamo, ci proviamo... eh, eh, allora, dobbiamo tornare di un altro oas, andiamo di un altro oas... ci bui acqua ne abbiamo, sembra di sì... un villaggio di donne... eh... as your horse follows a winding path, along the mountain, you pass a greek woman, picking apples on the side of the road. She glances at you as you ride past her, and nods her respectfully. By chance, she turn and look behind you a moment later, and she's gone. Thinking a little of it, you and your party continue along the path. A few miles down the road, you round a bend and find yourself confronted with a large group of women. They are cladding... podge? So cos'è? Armor and wind-wielding spears, which they are resting on the ground, pointed at the sky. A dozen of them are blocking the road, while another dozen stand on the ridge above the path. Non ha molto senso che tengano delle lance con la punta verso l'alto, perché uno se cade ti fai un fracco di male e due se la metti con la punta verso il basso stai in piedi. Non ha alcun senso. Salve, non vogliamo fare danno, stiamo giusto passando. One of the women on the ridge speaks up. She is in her middle age, with streaks of grey in her long black hair. She asks her compatriots to step aside, and invites you to speak to her in the village ahead. Ok. I romani non l'avrebbero considerata di mezza età, se ha già i capelli grigi. You ride ahead and find the little village waiting for you up a rocky branch of the path you had been following already. A little while later, the women return and the one who called out to you approaches cautiously. She first asks you many questions about who you are, your station and the resources at your disposal, until Kalida cuts her off and demands to know the reason for this interrogation. The women, that explains that Mitridath's soldiers came and tried to press the men of the village into service. When they refused, they were all killed. The women are hungry and they thirst for vengeance. If you are older, what is the women of the village? I like the second one. I've got the money, but I can't keep you with Roman weapons and send a few legendaries here to train you. You could snap at the heels of Mithridates' armies And disrupt their supply lines A woman relays your offer to her compatriots And they don't need long to reach consensus They gratefully accept and promise That they will hound Mithridates relentlessly With the vengeance of the furies To avenge their husbands, their fathers, their sons' fathers You've write a letter with detailed instruction For Ignatius Naso, explaining your arrangement And instructing him to select a few good men To train these brave women The woman who did the Tolkien Takes it from you With a determined and slightly bloodthirsty look upon her face And the soon-to-be warrior women Cheer and wave as you leave the village again With more hope for the future than how you found it Non ho visto cos'è successo però là Perché stavo leggendo Cos'è successo là? Eeeh No Volevo sapere cosa fosse successo Porca pupazza Niente, invece non possiamo sapere Andiamo a troas Eeeh Niente, adesso ero troppo basso Non riuscirò mai più a stare nella posizione giusta Niente, questa camera Perché cavolo l'ho spostata Eeeh Julia E poi chi prendiamo? Prendiamo il nostro tutorial Sì dai Questo tutorial è simpatico Perché fa un sacco di cose simpatiche Tipo Inspire E basta Però sono Una Cosa Una Sacco cosa Simpatica Sacco simpatica No Ok Eeeh Dai Pronti? Mi sembravano eterni quelli di Viking Ma adesso mi sembrano eterni quelli di Roma È incredibile Come Anche se Sia Anche se è migliorato C'è sempre da Mantenere questo momento di Attenzione viva Eeeh E non succede nulla Eccoci dai Siamo arrivati a troas Finalmente Eeeh Dov'è che dobbiamo andare? Alla villa Alla villa è sulla villa Sulla collina Sì allora è quella che mi ricordavo Giusto Eeeh Ah c'è il tizio che vendeva i gamberetti Gli abbiamo detto che saremmo tornati un'altra volta Ma non mi sembra il giorno giusto Mi sembra troppo luminosa Però sta città E da una parte Ok Ma mi sembra davvero Troppo bianca Qualche impostazione video Eeeh Sulla luminosità Eeeh O meglio Secondo me è la qualità bassa Che è così Che rompe così tutto Ma non so se Provare a Mettere a medio A medio Se non mi esplode tutto E no infatti adesso Sembra più scuro Era proprio la qualità Che era Che rompeva un po' tutto Allora andiamo a parlare con il tizio Ciao Ah si ci incontriamo di nuovo Si ricorda di noi quindi Allora Ciao tu chi sei? E tutti mi stanno aspettando Perché tu non mi stai aspettando? Ci sono vie di uscita di qua Non tanto Questi sono dei loro Non mi piace tanto la situa Perché ci sono più loro Che non nostri Proviamo comunque Ciao la medon Grazie Io credo che non ti necessario Per te ricordare Di un'attività Di un'attività Di questa incontra Sì Ovviamente non Ah è un'attività di un'attività Di un'attività Ma noi abbiamo ancora le armi Ma noi abbiamo ancora le armi Qui ci sono Che ci sono Tu sei il Tu sei il Tu sei il all Mithridates Megas I'm pleased that you came to meet me There's a certain individual you've been keeping as a guest It would make me happy to see him reunited with his family I'm sure that would make you happy and place you in a significantly better strategic position. Forgive me for being selfish in this case but you should know that his release would certainly not make me happy and I'm mostly concerned with my own happiness but besides I'm quite fond of my new friend Kodar. Why would I let him go? He's a valuable guest certainly you don't expect me to roll over and give him up to you No, ma tra l'altro scusa un attimo, ci invita a casa tua e c'ha tutti i panieri per terra c'ha un vaso rotto, ma che cavolo di... vabbè Not at all But my intention here is not to bring about your defeat I highly doubt that My intention is making sure we both win Over the course of this war we have captured nearly a thousand of your soldiers which are held in my camp as prisoners I have no interest in feeding your men we would both be best served by an exchange of hostages Okay, I'm not going to do that One man for the lives of a thousand I'd call that a fair trade Would you not? An interesting proposal But Cota is of immense strategic value to me In order to make this trade I would need to see my strategic position improve I'm sure that I can be persuaded into parting with your co-consul in exchange for say your departure from Asyaminor with all your legions I doubt you would agree to that That's what the world You have no остров Do you see the start? Do you see the first one? Oh well I would like the first one of the two ranks of over a thousand and you will win and you will win Your position will be made ...elevi. Why would I care about a mere thousand? It seems we are at a momentary impasse. Order us some wine, please, and we will see if we can work through this. Don't you worry. I have already prepared the best wine for my guests. We did not spare any expense. By no means. All food and drinks are to be served by me. Only that way can we guarantee the same for negotiators. Portoli. Go now. I shall bring your drinks. Ah. Good wine. Ma come? Ma non è ancora arrivato? These Asian wines are rather dry. I prefer those they make in Africa. To each their own. I'll make you one final offer. I have no interest in handing over Cotter. But since you have shown good will, I may be willing to release 200 of your legionari in exchange for the release of 400 of mine. I have heard your people boast that each of your legionari is worth two of my soldiers. So this should be a fair trade. To each other says, Ehm... Ovio cosa stai cercando di fare. Ehm... 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 La prima volta che ci troviamo, sarà sul battlefield Questo potrebbe essere meglio, ma potrebbe essere anche peggiorno Abbiamo un certo intercambio, almeno Andiamo, resterò qui un po' più lungo Ho alcune cose che voglio discutere con il nostro host E alcune delicazioni locali che vorrei sapere Ciao a tutti e buona giornata!